Il film di cui voglio parlarvi oggi è La finestra sul cortile, il film di Alfred Hitchcock del 53. Capolavoro non lo scopro sicuramente oggi, benché non abbia vinto neanche un Oscar, tutto questo è abbastanza clamoroso, però si pensa a tanti altri film e capolavori che magari non hanno vinto l'Oscar. Sebbene il film va tutto a gonfie vele, perché comunque è un capolavoro di tutto, di montaggio, di fotografia, di ritmo soprattutto, di attori, perché c'è un James Stewart monumento, cioè che proprio ha un'espressione fantastica, perché riesce ad essere empatico col pubblico, cioè le reazioni che faceva, le espressioni che faceva James Stewart erano quelle che avrei fatte anche io, uguali, le solite. Certo, se avessi avuto vicino Grace Kelly, anche avessi avuto una gamba rotta come c'era il protagonista per tutto il film, e non avrei fatto il fighetto, guarda la finestra, guarda quella lì che fa, guarda quello, guarda l'altro, guarda dove l'ha la seppellita la moglie, guarda quello lì, cuore solitario. No, onestamente no James Stewart, però diciamo è anche quello il bello, perché poi alla fine Grace Kelly da puntare tutte le volte che lo va a trovare a volerlo sposare e comunque parlare di un futuro insieme, alla fine anche lei si piega all'interesse principale di James Stewart, ovvero quello di scoprire se il vicino di casa, che sarebbe la trama, o meglio il vicino di casa, il vicino di fronte, ha effettivamente ucciso la moglie. Questo è tutto quello che gira intorno al film. Ed è proprio questo, diciamo, è l'unico punto che mi stona un po' nel film, ovvero il voler, ok che sia con la gamba rotta, ok che non ce la fa nulla, però voglio andare a rompere i uglioni. Cioè io veramente ho visto Raymond Burr, che sarebbe il vicino dell'obrizzolato, diciamo il quarto protagonista del film, se voglio dire, forse sì, sì, forse è anche il Zehondo, perché dopo James Stewart c'è lui, perché anche Grace Kelly, l'infermiera e l'investigatore sono più figure di secondo piano. Però comunque, cioè cosa, ho capito che questo fa quello che fa, però è lui che gli vuole rompere i uglioni, l'ho visto veramente, Raymond Burr, cioè le fanno gli entra in casa e gli dice, cosa vuoi da me? Cioè, alla fine lui era a farsi i cazzi su, ha t'ha rotto i uglioni, no, non te l'ha rotto i uglioni, cioè. La sua moglie era lì, ok, era ammazzata, come diano e tutto, e non è che sono qui, anche perché si parla di un film, non è che nella vita reale voglio dire che io, beh. Però fatti alzi tu hai già visto i uoltre, cioè alla fine. Io posso capire il tutto, cioè te hai un, diciamo, un'idea proprio fantastica, un'intuizione fantastica più che un'idea, e alla fine sarà quella giusta, non lo metto in dubbio. Però, porca troia, io l'ho visto veramente poverino, veramente Raymond Burr. E oltre a quello poi, ecco, questo che è l'unico punto, se non è negativo, del film. Poi tutto, tutto l'opposto è un capolavoro. Il suo proprio rimanente è un capolavoro dall'inizio alla fine. Si parla del MacGuffin, che sarebbe praticamente un escamotage che permette al protagonista di svolgere il film. Cioè, di svolgere il film. Sì, di svolgere la trama del film. Che Sam Psyche sono i soldi che ruba Janet Leigh. Che alla fine, nella storia non c'entrano nulla, però è il motivo per il quale lei poi scappa. Così, nella finestra sul cortile, il MacGuffin è la gamba rotta di James Stewart. Un James Stewart, come dicevo, magistrale, anche per la brusciata di idee che ha forse un po' troppo. Però la cosa più bella, secondo me, è proprio la riproduzione, che ho capito, sarà fatta in scala del cortile. È proprio di un'immagine, forse, di un'America, ma forse anche di un mondo che non c'è più. Perché non sono anche durante l'estate, si vede vicini di casa che dormono fuori, ma neanche durante l'estate tengono tutte le finestre aperte e la gente può vedere in casa altrui, secondo me. Quella è una cosa un po' che si è persa e, onestamente, diciamo che è forse l'unico particolare che stona con il momento attuale, diciamo, non con il momento, però comunque con l'epoca attuale, secondo me. Oltre a quello, però, comunque è sempre un qualcosa di clamoroso, perché è un film che ti tiene sempre col fatto sospeso, benché duri quasi due ore, mi pare. Ci sono dei protagonisti di contorno fantastici, l'infermiera, sempre con la parola pronta, sempre pronta a tutto, ma soprattutto vispattiva. Grace Kelly, piuttosto sorniona, ma una gran cavalla, cioè, che gli vuol dire? È uno che si... che tenta in tutti i modi un po' di innamorare, cioè, vuole sposarsi, è un fotografo squattrinato, ma magari a lei lo colpisce, lo gasa, cioè, la gasa, soprattutto, la caria, penso, onestamente. E quindi... poi c'è questi investigatori che non gli crede mai, ma alla fine anch'io, onestamente. Uno che sta fermo in casa, con questa gamba rotta, lì, e guarda, impazzirebbe. Impazzirebbe, anche io, onestamente, se mi toccasse stare alla finestra tutto il giorno, vedere quello che fanno vicino di casa. Impazzirebbe, troverebbe anch'io degli omicidi, quindi avvicinato anche se non ci sono. Che dire, poi... è veramente... poi c'è stato fatto anche un remake, mi pare che questo film non l'ho visto, ma vabbè. I remake dei capolavori, come è quello di Psycho, fatto nel 98, sono abbastanza trascurabili, sebbene, magari, uno può dire... sono fatti a... questo che è a colore, però i remakes di Psycho è fatti a colore, sebbene, uno può dire, sono un po' più moderni. Si perde tantissime cose, con Psycho si perde, penso, il 90% del film. Con questo non lo so, però... già anche il montaggio, la scena, il fatto di vedere tutto tramite un binocolo o comunque il teleobiettivo della macchina fotografica, per me è un qualcosa di clamoroso. È di fantastico, c'è la classica scena, o meglio, il classico cameo di Hitchcock, che metta questo orologio nella casa del vicino pianista, poi c'è Cuore Solitario, c'è la ballerina di danza, proprio diretta, davanti alla finestra di James Stewart, che ogni pochino fa delle espressioni, un po', diciamo, a mandrillo, che l'avrebbero fatte tutte le espressioni. Se siamo davanti a casa, che a finestra aperta ti fa queste pirouette quasi mutande, capito? Oggi sarebbe accusato di sessismo questo film in maniera che ci farebbero delle puntate sopra della D'Urso, roba che James Stewart insieme sarebbero linciati, proprio linciati, Grace Kelly sottomessa, che rimane in casa, anche se il marito la maltratta verbalmente. Poi vabbè, quello lì che ammazza la moglie, lui vorrebbe neanche preso, anzi, passerebbe in secondo piano perché sarebbe un omicidio. Ecco, lui forse diventerebbe un caso di corona canera, Raymond Burry che ammazza la moglie, farebbe tutte queste inchieste, vedreste la D'Urso lì sotto il cortile, ma il cane che l'ha ammazzato, perché c'è anche il cane di quelli del piano di sopra che verso quasi la fine del film lo trovano morto, e diceva, ma chi è stato? Chi è stato? E' stato sempre Raymond Burry, ve lo spoilerò, e quindi lì interverrebbe protezione civile, protezione animali, interverrebbe il WWF, la D'Urso, chi l'ha visto, e farebbero dietro un qualcosa di clamoroso, e diventerebbe veramente la fiesta sul cortile, penso, il caso dell'anno. Fortunatamente il film non è del 2018, neanche del 2020, neanche degli anni 2000, bensì è di una cinquantina, sessantina anni prima, e fortunatamente Hitchcock è morto prima di vedere questi oprobri.